Da tre settimane in Abruzzo si conta un calo netto dei contagi da Covid-19, questo anche grazie all'arrivo della bella stagione. Ma il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale civile di Pescara, predica calma data l'esplosione della variante Delta, che fortunatamente nella nostra regione ancora si manifesta. I numeri sono veramente confortanti. Il caldo fa funzionare meglio il nostro sistema di immunità innato, che non fa penetrare il virus. Il virus però può rimanere sulle nostre mucose e quindi noi, cioè chi alberga il virus, può essere un portatore sano. Quindi d'estate questo virus, che è un virus di raffreddamento, così come tutti gli altri virus di raffreddamento, non scompare del tutto, non manifesta se stesso sotto forma di malati e di decessi, però circola. Circola per traslarsi in un periodo a lui più conveniente che quello dei primi freddi, quindi diciamo dall'autunno avanzato. Quindi dobbiamo stare sicuramente attenti, anche perché purtroppo alle porte c'è la variante Delta. Fino alla settimana scorsa non avevamo casi in Abruzzo, noi i casi o quelli diciamo sospetti li facciamo genotipizzare e non mi risulta che ci siano stati casi, a meno di situazioni recentissime. Il dottor Fazzi è intervenuto poi sulla campagna vaccinale affinché si continui a buon ritmo per evitare il dilagare delle varianti. Non solo bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinare possibilmente tutti i soggetti dai 12 anni in su. Io mi arrivano parecchie telefonate da parte di genitori spaventati o premurosi che dicono faccio o non lo faccio il vaccino, mio figlio ha 15 anni, 16 o che. La vaccinazione è un immunoprofilassi attiva ed è una pratica che viene seguita per la salvaguardia della collettività. Poi vai a salvaguardare anche te stesso, per la salvaguardia della collettività. Quindi nell'arco di pochi mesi dovremmo fare uno sforzo e vaccinare tutti.